Cari amici, per la rubrica Plugin on the Road, ma anche Buzz Tour, perché questo è un Buzz in piena regola, state per assistere ad una performance davvero eccezionale. Quindi, Cipria e Rossetto, dirige l'orchestra, il maestro, la maestra Cassandra Raffaele, esegue Francis. A voi. C'è nato il giardone, la luce bassa delle candele, mi hai portato fuori, adorato e giorni, e arrivo a Ravie. Tu non devi trattarmi, come se fossi il Cipria e Rossetto, non bastano sogni e rumori, sempre gli amo, Dio. Ma stavo pensando volendo.